ben a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabriel io virillo oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido vai virillo espori allora della twisted un aroma fatto da noi comprato e miscelato si chiama faders mic v2 all'interno c'è latte biscotti e fregoline un liquido sono comprato da svopo caffè ricordiamo marina di carara e la spezia andate a trovare se avete un po di tempo c'è la scelta di aromi allucinante ora andiamo a fare la prova di svopo e creare qualche conclusione a questo liquido da da far vivo in casa vai gabi noi abbiamo preparato 90 ml 10 ml di aroma 90 ml di base 70 30 e la roma di 10 ml viene abbastanza giusto né troppo forte né troppo grande per tutto il giorno lo smaga io andrò a provare con il gani v2 e il druga io l'amera l'apocalips che spinge bene due batterie in serie due in parallelo resistenza da 0 40 diffume ne fa un botto e il gusto mi piace tantissimo questi libri qua della twisted stanno spaccando per prepararsi e svopparli tutto il giorno sono top per chi svoppa col di perché brucia tanto liquido e tanta roba poi con gli aroma c'è la possibilità di farti dei liquidi e provarli anche vincerarli insieme e poi un po sbizzarri e certo in base ai gusti che ci sono anche tanti fruttati ci sono tante combinazioni strane della twisted buone si che botte gli dai a questo liquido qua un 7 e 7 e mezzo si siamo sempre su quella linea di 7 e 7 e mezzo sono merito a tutto sono merito dalla tabella dello slop è tutto se la video viene giunto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su instagram e il canale su facebook quindi aspettiamo un bacio